Sapevate che Margot Robbie ha rifiutato di posare per Playboy? L'offerta le era arrivata dopo il grandissimo successo di The Wolf of Wall Street, in cui tra l'altro era già apparsa completamente senza vestiti. Era stato proprio Hugh Hefner, l'ex patron di Playboy, a chiedere di posare per la copertina, però Margot Robbie si è rifiutata immediatamente di posare per loro, dicendo fin da subito che nel corso della sua carriera si sarebbe spogliata soltanto per scopi artistici, proprio appunto come era successo per The Wolf of Wall Street. Infatti le scene senza veli di Margot Robbie sono sempre contestualizzate all'interno del film, con uno scopo narrativo, non sono mai gratuite, e quando un'attrice è veramente brava la si vede anche dalle scelte artistiche che compie. E voi la sapevate questa? Non vi chiedo se avreste voluto Margot Robbie sulla copertina di Playboy perché so già la risposta. Però che ne pensate di questo metodo lavorativo? Iscrivetevi e ditemi la vostra nei commenti.